Ma credo che è più forte quello che vede la situazione, pensa al popolo e ha il coraggio della bandiera bianca. E negoziare. E oggi si può negoziare con l'aiuto delle potenze internazionali, ci sono. Quella parola negoziare è una parola coraggiosa. Quando tu vedi che sei sconfitto, che la cosa non va, avere il coraggio di negoziare. Ti vergogna, ma continui così, quanti morti hai poi e finirà peggio ancora. Negoziare in tempo, cercare qualche paese che faccia del mediatore. Oggi, per esempio, con la guerra in Ucraina, sono tanti che vogliono fare un mediatore. La Turchia, per esempio, non avere vergogna di negoziare prima che le cose stiano peggio. La Turchia, per esempio, non avere vergogna di negoziare prima che le cose stiano peggio. La Turchia, per esempio, non avere vergogna di negoziare prima che le cose stiano peggio. La Turchia, per esempio, non avere vergogna di negoziare prima che le cose stiano peggio. La Turchia, per esempio, non avere vergogna di negoziare prima che le cose stiano peggio.